Se tu nasci Noiz Narcos, ok, cambi e diventi Fedez, non è quello il senso di cambiamento. Fedez, è nato Fedez, è morto Fedez. Ok, però tu non puoi nascere, no? Cioè se tu nasci Noiz Narcos, non puoi cambiare e diventare Fedez, a livello proprio musicale. Non puoi stare dall'alcore a fare il pop, in un certo senso. Nelfa è passata a fare il record pop. Nelfa già aveva quell'indole là, era comunque all'interno di quello che faceva.